ciao draga sono contento di vederti sono appena tornato dal mio solito giro con le renne non vediamo l'ora di volare fino a casa tua in sudamerica vieni con me c'è una cosa che vorrei farti vedere ti starai chiedendo come faccio a finire tutto in tempo per la notte di natale ebbene praga sono molto fortunato ricevo un grande aiuto dai miei elfi e dalle mie renne ovviamente e ho anche un grande libro su ogni bambino e bambina del mondo qui c'è il tuo ai cent'anni non è vero e scrivi le migliori storie dico bene trago